L'ampliamento della discarica Santa Lucia di Atri non è scongiurato. La questione sembrava definitivamente tramontata dopo la recente decisione della regione Abruzzo di non autorizzare il terzo ampliamento. Ora però il consorzio Piombafino, gestore della discarica, ha annunciato il ricorso al TAR. E così, denunciano i detrattori dell'ampliamento, ancora una volta a chilometri e chilometri di distanza da Atri si decideranno le sorti del territorio. Il terzo ampliamento non può essere fatto, ci troviamo vicino a quello che è un sito di interesse comunitario, una riserva regionale naturale gestita dal WWF o ASI WWF che ha fatto una scelta per quel territorio completamente diversa. Si deve procedere alla bonifica delle discariche esistenti e mettere la parola fine a questa vicenda. In Abruzzo vi sono sei discariche per una volumetria residua di oltre 870 mila metri cubi. Secondo le associazioni ambientaliste e i comitati cittadini, i 360 mila metri cubi che fornirebbe l'ampliamento della discarica di Atri non sono necessari. Secondo i dati ISPRA, negli ultimi anni la produzione abruzzese di rifiuti è diminuita, ma lo smaltimento nelle discariche è aumentato. Nella discarica di Atri, infatti, possono essere smaltiti anche rifiuti di altre zone d'Italia, senza alcun accordo tra le regioni, ma semplicemente tramite contratti tra i gestori degli impianti. Un business, quello dell'immondizia, che solo in Italia vale 28 miliardi. L'Abruzzo è il polmone verde d'Europa. Ecco, allora cerchiamo di prendere una strada che sia da un punto di vista ambientale, sia sostenibile da un punto di vista ambientale, da un punto di vista economico. Lasciare fare altre discariche e poi lasciarle sul groppone di noi cittadini abruzzesi non farà altro che aggravare una situazione che invece va risolta con le bonifiche.